Ciao, in questo video ti parlo del più grande principio di management. Per farlo ti racconto una storia. Questa storia è ambientata a Londra perché circa 25 anni fa ero manager in una banca, mi hanno scelto per un percorso formativo, mi sono innamorato del management, per approfondirlo ho scelto di andare nella patria dove era stato, diciamo così, inventato questo management, per cui lasciare la banca, sono emigrato a Londra, mi sono iscritto ad un master in management, bla bla bla. Allora, un weekend ero in libreria e vedo ammiccare questo libricino, The Greatest Management Principle, i più grandi principi di management. Allora, mi ricordo proprio questa sensazione del tipo io lo voglio, non posso non averlo. Poi, siccome mi ero licenziato, stavo studiando, avevo il mio gruzzoletto da parte ma non volevo scialare, non volevo sprecare i miei preziosi soldini, mi ricordo che giro, vedo 4 stelline e 60, con il mio budget me lo potevo permettere e quindi faccio questo acquisto. Mi ricordo che il nanosecondo che avevo fatto il check out, prendo il cellophane, lo strappo con l'intento di iniziare a leggere, però cosa succede? Le pagine sono bianche. E mi ricordo che pensai, ma forse il management è come con le donne, perché all'epoca c'era un libro che era intitolato tutto ciò che gli uomini sanno delle donne, tu lo compravi, era tutto bianco. Quindi mi stavo facendo questo film che forse il management era una roba, dove, e mentre penso, continuando a sfogliare, finalmente trovo l'unica parte stampata che era la parte centrale e a corpo 64 c'era il più grande principio di management che ti sto per dire, che è i comportamenti premiati vengono ripetuti. Allora, se ti stai chiedendo ok, e quindi cosa me ne faccio del più grande principio di management? C'hai ragione, nei corsi dal vivo dove parlo a persone che di mestiere gestiscono altri, quindi manager e leader, vediamo come usare il più grande principio di management nel loro mestiere. In questo video io mi rivolgo ad un mestiere un po' particolare che io chiamo il mestiere dell'amministratore delegato della me stesso SPA. E quindi vediamo come usare questo principio nel guidare non altri, non nel guidare un'azienda, ma nel guidare te stesso. Allora, il primo utilizzo di questo principio è fai attenzione a che cosa premi in modo inconsapevole. Allora, se mi conosci un po' e mi segui sai che io parlo spesso di un personaggio del nostro mondo interiore che è l'ego infantile. L'ego infantile è quel personaggio che in maniera molto sintetica, dopo ti dico se vuoi come puoi approfondire, ricerca il piacere e evita come la peste, la fatica, il disagio. Ok? Quindi vediamo come funziona. Prendiamo che tu devi fare un'attività che ti mette un po' di disagio. Non so, devi parlare in pubblico, devi fare una presentazione, ecco facciamo così, il tuo capo ti dice guarda io sono via, fai tu la presentazione a posto mio. Ok? Al pensiero di fare questa roba qua ti viene un po' di stretta allo stomaco. di fatto non è a te, perché tu sei l'amministratore delegato della me stesso spa, a chi è che viene, viene al tuo ego infantile che c'ha un po' di paura, che c'ha un po' di preoccupazione ed è qualcosa di distinto da te ma lo senti te. Un po' come quest'ombra che c'è qua di dietro in maniera inquietante è legata a me ma non sono io. L'ego infantile è qualcosa di simile solo che anziché essere fuori è dentro di noi e quella cosa che noi sentiamo, che chiamiamo paura, spesso è legata a questa ombra che noi abbiamo nel nostro mondo interiore. Allora che cosa succede? Succede che se tu ascolti e credi alle bugie, alle scuse che ti racconta questo bambinetto di due o tre anni che hai dentro di te e gli credi, che cosa succede? Che poi le dirai al tuo capo, trovi una buona scusa, dici guarda io qua la rava e la fava non posso fare questo, non posso fare quest'altro e il capo trova un'alternativa. Tu subito dopo che hai creduto al tuo ego infantile e alle sue scuse come stai? Stai meglio, stai meglio perché non devi fare quella cosa antipatica, non devi fare quella cosa sia così spiacevole e sgradevole che crea paura che crea disagio. Allora questo è il premio a cui fare attenzione perché in base ai più grandi principi di management i comportamenti premiati vengono ripetuti. Allora la volta dopo che arriverà qualche cosa disgradevole è più probabile o meno probabile che l'ego infantile ti racconti una scusa, ti racconti una bugia e tu ci credi? È più probabile perché sei stato premiato in passato. Ecco come utilizzare i più grandi principi di management nel mestiere di guida del me stesso spa, nella relazione tra te e l'ego infantile. Ti dicevo prima se vuoi approfondire due modi. Uno, puoi andare nel mio blog a mircobosi.com e trovi un articolo su l'ego infantile, due punti come distruggere la tua crescita, benessere e prosperità mi sembra. Due, ti puoi iscrivere al progetto coltivalacrescita.com e ogni giorno riceverai una mail che si legge in un minuto poco più così il tuo ego infantile non si ribella e con queste queste mail sono dedicate a degli spunti di approfondimento per sviluppare le competenze trasversali. Le competenze trasversali che cosa sono? Sono quelle competenze che servono a tutti perché tutti noi siamo amministratori delegati di questa importante azienda che è la me stesso spa, tutti noi siamo chiamati a guidare noi stessi e per guidare noi stessi queste competenze trasversali sono fondamentali, sono utili a tutti e in questo progetto tu ricevi una mail al giorno dedicata proprio allo sviluppo delle competenze trasversali. Per cui spero di vederti dall'altra parte e in ogni caso un grosso in bocca al lupo per la tua crescita, benessere e prosperità.